Siamo alla fine del culto qui nella comunità di Fuori Grotta e insieme a noi c'è Daniele. Daniele, per te che cos'è l'orgoglio? Ma devo dirvi in verità che l'orgoglio è stata proprio la causa che mi ha tenuto per tempo lontano dal Signore perché era proprio l'orgoglio che mi frenava a poter accettare Cristo nella mia vita in quanto io per essere salvato volevo per forza fare qualcosa di mio per accettare il Signore ma solo quando mi sono arreso e ho affidato la mia vita al Signore ma questo l'ho fatto in un modo deciso ed in un modo completo ho potuto realizzare Gesù nella mia vita e ho potuto vedere veramente la mia vita trasformata e quindi posso dire con certezza e fermezza che tutto quello che mi impediva di realizzare Gesù nella mia vita era proprio questo sentimento, l'orgoglio che appunto non mi lasciava e che forse anche inconsciamente mi teneva frenato, mi teneva bloccato, mi teneva chiuso insomma non mi faceva aprire tutto il mio cuore al Signore io lo ringrazio il Signore perché veramente nel momento in cui mi sono abbandonato a Lui ho potuto vedere la Sua gloria nella mia vita ed oggi posso dire vivo nella gioia grazie a tutti